Il carnevale quest'anno purtroppo non si farà, è l'ennesima battosta sia per i bar che i ristoranti ma specialmente anche per i negozi. È un qualcosa che tocca soprattutto i bar perché bene o male il carnevale porta turisti, porta gente da fuori e porta comunque movimento. È l'ennesima battosta per noi che abbiamo le attività. Pesa molto la decisione di non fare il carnevale anche quest'anno a Bassano. Una decisione è presa dalla Proba Sano alla luce dei limiti posti dal prefetto durante l'incontro che ha visto coinvolti, oltre ai vertici dell'associazione che da sempre tanto ha fatto per la città, anche la sindaca Elena Pavane, l'assessore alla sicurezza. Nonostante l'uscita della prima cittadina che dava per scontata la manifestazione, la smentita era arrivata subito dopo dalla Proba Sano, motivata proprio dalle restrizioni comunicate dal prefetto per la sfilata dei carri allegorici in centro città. E d'altro canto si è trattato di una decisione finale ampiamente prevista da noi di Rete Veneta e dai cittadini. Decisione che però grava su chi aveva puntato parecchio sul carnevale 2022. Non ci voleva. Stavamo già gustando quest'aria di riapertura, di ritorno alla normalità, però ahimè la situazione è ancora questa, quindi dobbiamo continuare a stringere i denti e a guardare il futuro con ottimismo. Stanchezza però. Molta, molta, anche perché le persone, abbiamo una situazione vaccinale molto ottimistica, molte persone si sono immunizzate, quindi tutti i numeri fanno sperare che siamo al punto di svolta. Però questi continui rimandi al futuro danno un po' di tristezza, sì. Oramai dobbiamo andare a chiedere un po' di solda al comune. Vedi che stiamo sotto acqua veramente, non si fa più niente. In questo periodo qua, dove solo abbassarsi dei contagi o dei ricoveri ci dà la speranza di vedere la luce in fondo al tunnel, c'è sempre qualcosa che ci ricorda che purtroppo non è ancora finita, ma vabbè, porteremo pazienza e speriamo finisca il più presto.